Questa fotografia è stata scattata in Etiopia, a La Libera, un paese nella zona del Tigrai ed è stata scattata durante una festività di San Giorgio, che è il patrono della cittadina di La Libera. Il re Giorgio fu il fondatore delle chiese rupestri che caratterizzano questa città che è diventata patrimonio dell'UNESCO e costruì queste chiese per permettere ai fedeli di pregare senza bisogno di andare in terra santa e quindi rischiare la propria vita con che è stato scattato in Italia. 10月份 Nel 5 Ilолодato Varumato L'avigilante Nel 5 15 12 Unifference Scamera Il virus Scamera Il suo Il cooperation Il suo lavoro è stato un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività di un'attività. è molto difficile. Questa fotografia è vicino alla fine della realizzazione. Perciò questo film ho scelto in un solo film per l'HIPA. Il film si chiama «Sprongy Sud'ya». L'anno scorso anno, nel novembre, è stato in grieggio di Lesbos. Qui vedete i libri dei rifugiati. Lesbos è diventato uno dei principi elementi. Perciò per i rifugiati. Più più di 500,000 sono arrivati l'isola in 2015. Le bambini sono un simbolo di la vita, la vita e la morte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.